Gormiti! Potenza degli elementi! Forza del cristallo! Combatti! Titano! Titano! Sono indistruttibile! Che cosa sta succedendo qui? Trek si è addormentato nel suo giardino e lui è uscito fuori dai gangeri. Cosa? Adesso basta, Solark! Noi non siamo tuoi nemici. Ensi di potermi ingannare, Eclipsion, sono riuscito a smascherarti! Colpo Solare! No! Sol doveva avvertirci che questo Solark è fuori di testa! Solark, non c'è alcun bisogno di combattere! Io difenderò l'ordine da qualsiasi cosa! Minacci di sovvertirlo! Sguardo Folgorod! Terremoto infermoso! Trek! Concentrati! Sì! Esatto, Trek! Concentrati su di me! Sì! No! 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 Non mi piace essere messo in pericolo dal mio guardiano. A meno che non sia per una buona ragione. Hai fatto la scelta giusta. Io non credo di aver avuto molta scelta, non è vero? Dormiti raggiungibili, chi mi fermerà? The land is back! The legend is back! Dormiti! Dormiti!